Ah eccolo qua, guarda il minazzilli, proprio dai Minazzilli Little Company, un videogioco uscito da poco e già sta rompendo non pochi record Tra vendite e giocatori in contemporanea Ma che cos'è questo nuovo horror fatto da una singola persona? No, aspetta scherzavo No, aspetta scherzavo Little Company è semplice quanto unico La sua semplicità deriva sul cosa si deve fare Cioè raccogliere spazzature in varie mappe e portarle sulla nave per raggiungere la quota che richiede la compagnia Abbiamo perso indie La sua unicità è il dove si va a prendere questa immondizia Lo spazio Un posto strano, enorme e anche molto, molto spaventoso, soprattutto quando si parla di mostri che solo Lovecraft potrebbe sognarsi senza dare di matto. Ma il gioco viene giocato per quale motivo? Beh, è un gioco co-op e prende il meglio di SCP e Fasmophobia e li mette assieme. Abbiamo delle mappe che vengono create proceduralmente e l'audio interno del gioco che spaventa a morti i giocatori, grazie alla tecnologia dell'audio binaurale. Riuscendo a cambiare ogni partita, creando unicità e divertimento. Immaginate di entrare con amici dentro la struttura del gioco e dividervi in varie stanze, sapendo che in quel posto non siete soli. A un certo punto, in lontananza. Sentite in maniera soffocata e realistica l'eco del vostro amico che fugge e urla. Ecco il motivo per giocare a questo magnifico gioco, proprio per provare le brezze di fuggire o divertirvi nel sentire i vostri amici urlare a squarciagola. Ogni partita crea un momento di pura paura e divertimento con gli amici. Il gioco costa 9,75€ e fidatevi, per un gioco del genere è un ottimo prezzo. Quindi, sprecatevi a prenderlo.